0405 98 strage in Vaticano, debutta fra pochi minuti al Teatro dei Documenti e qui abbiamo tutto il cast al completo. Panoramica, prima di lasciare il microfono. Paolo Orlandelli, io sono il regista, uno spettacolo che abbiamo fatto già dieci anni fa in occasione del decennale, oggi si celebra il ventennale, un testo di Fabio Croce che ha inaugurato il mio filone del teatro di denuncia, non l'avevo mai fatto prima e poi ho continuato a farlo. Quest'anno, oltre allo spettacolo, facciamo una petizione a Papa Francesco su change.org perché riapra il caso e si ristabilisca la verità, dato che la colpa è stata addossata a qualcuno che forse ha funzionato come caprio espiatorio. Io sono Fabio Croce e scrivo da tanti anni di questioni relative al Vaticano e nello specifico nel 1998, avendo avuto occasione di conoscere Cedric Tornet e alcune persone che gli erano amiche, ho cominciato a indagare dal momento in cui il 5 maggio 1998 abbiamo letto sui giornali che era successa quella disgrazia e il muro che il Vaticano ha posto contro la verità su questo caso mi ha indispettito a tal punto che sono 20 anni che lavoro su questo caso e credo di esserne uno dei più esperti al mondo. Perdonami, visto che molti millennial ci seguono, parliamo di una strage, cioè parliamo del fatto di cronaca un attimo. 4 maggio 1998 alle ore 21 della sera all'interno della città del Vaticano nei pressi di Porta Sant'Anna sono stati sparati 5 colpi d'arma da fuoco, sono stati trovati morti dopo pochi minuti da una suora che abitava nello stesso stabile del comandante Esterman, tre corpi, il comandante della Guardia Svizzera Alois Esterman, la moglie Gladys Mezzaromero e un vice caporale di nome Cedric Tornet. L'omicidio suicidio è stato dichiarato tre ore dopo in sala stampa dall'ufficio stampa Joachim Navarro-Waltz che ha detto queste parole abbiamo la certezza morale che le cose sono andate così. Il vice caporale si è recato nella stanza di Alois Esterman, ha sparato a lui e alla moglie, si è posto l'arma contro di lui in bocca e si è suicidato e la storia per il Vaticano è finita così. Nessuno ha potuto interferire, la magistratura italiana non è stata informata, la polizia nemmeno e nemmeno gli stati esteri che avevano la giurisdizione su queste persone straniere perché erano di cittadinanza svizzera ha potuto mettere bocca su questo procedimento tirato via in maniera vergognosa dal Vaticano. Iniziamo invece la mia indagine e facciamo continuare un attimo, a questo punto mi devo prodigare, qui abbiamo... Emanuele Linfatti che interpreta il ruolo di Cedric Torre. Io pensavo quell'altro, ma non so. E poi? Io Antonietta D'Angelo che ovviamente interpreto il ruolo femminile sia della madre di Cedric Moguette Baudà che quello della moglie di Alois Esterman, Mesa Romero Esterman. Che interpreta? Tu da? Da Giuseppe Alagna che è Alois Esterman e anche Navarro Valls e avvocati vari, insomma, vari ruoli, ci siamo sparsi in vari ruoli, narrativi. Io ho parlato di Millennials e quindi vado direttamente dal più giovane. Ah, io sono Millennials. Sì, beh, tu sicuramente non eri nato, se eri nato eri proprio... Avevo quattro anni. Ecco, quindi non ti ricordi niente. No, direi che... E che cosa ti può dare invece questa storia? No, appunto, come avevo già detto anche a Paolo, che questa è stata un'occasione per conoscere questo fatto di cronaca e ripeto che la cosa che mi colpisce molto è che in questo casino così adulto, tra virgolette, venga la vittima, un ragazzo che viene in qualche modo spinto in un mondo che è probabilmente troppo grande per lui. Una cosa un po' più grande di lui. Eh, beh, sì, forse sì. Invece la mamma? Eh, la mamma, anche io giovane in questo caso, però mi trovo a interpretare la mamma. No, io facendo questo spettacolo grazie a Paolo sono fortemente indignata della situazione perché poi ho pensato che effettivamente Cedric, vedendo anche l'immagine di questo ragazzo, potrebbe essere mio fratello. Quindi, cioè, vorrei proprio che anche i giovani vedessero questo spettacolo perché ognuno di noi prenda coscienza e prenda una posizione poi anche per le successive azioni che potremmo fare nella società. E la vittima, una delle vittime? Una delle vittime. No, 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 la vittima, la vittima, la vittima, è meglio la vittima. E diciamo che nel mio caso è un, come dire, un impegno intellettuale perché vuole essere proprio la denuncia affinché venga compreso un caso di ingiustizia come mille altri ci sono in Italia e che venga approfondito e non considerato inesistente o in una maniera superficiale come spesso avviene in Italia. quindi, come dire, mettere il microscopio su delle questioni molto delicate e con Paolo Orlandelli noi lo abbiamo fatto ripetutamente nello spettacolo precedente, ad esempio, intitolato Il processo dell'Utri e alcuni anni fa con il caso Sherry, un'altra giovane vittima innocente nel mondo dei soldati, diciamo, e dei vari scherzi di questo mondo, di questo campo. Quindi ecco, il senso di ingiustizia che se si potesse quantomeno modificare o guardare con occhi più attenti. Allora, prima che la regia ci prenda scudisciate perché abbiamo già sforato sui tre minuti ma non ci avete un po' di timore a portare in scena? In realtà è già stata portata in scena nel 2008 però è da pesca, diciamo. I titoli dei giornali, insomma, sono stati abbastanza forti addirittura sull'Herald Tribune, ricorderà Paolo, è uscita una pagina intera è venuta qui in teatro la televisione svizzera che ha ripreso parte dello spettacolo insomma, poi timore, quando si dice la verità non bisogna mai aver paura tra l'altro, l'abilità di Paolo nella scelta del testo perché io ho preparato tanto lavoro su questa questione Paolo ha scelto tutte questioni, racconta questioni neutrali praticamente racconta dati di fatto, non dà giudizi di merito quindi lui è stato abile nel preparare un prodotto teatrale che non mette a rischio nessuno di noi. Allora, noi vi aspettiamo al Teatro dei Documenti dal 2 al 6 maggio per 4, 5, 98, strage in Vaticano noi spoileriamo come va a finire perché tanto la fine è nota, quindi noi andiamo all'inizio E se non venite a teatro, firmate la petizione su change.org a Papa Francesco, verità sulla strage in Vaticano Ecco, così in Vaticano noi non ci guardano più però va bene uguale, vi aspettiamo, ciao 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 Grazie per la visione